Ciao a tutti, siamo live per il secondo episodio live della mia diretta su come sto pubblicando il mio libro Dark Fantasy. Ora, se non avete visto il primo episodio, questo è il secondo di una serie di un certo numero di episodi in cui io sto parlando dell'ultimo progetto editoriale che mi vede protagonista e sto praticamente raccontando alle persone che mi seguono che cosa sto facendo passo dopo passo per pubblicare in anglosassania, quindi nel mercato americano, un mio libro, primo libro che scrivo in inglese e pubblico nel mercato americano. E nell'episodio precedente di questa live ho parlato di alcune cose generiche, insomma, ho introdotto il progetto, ho spiegato di che cosa si trattasse, ho detto che era un Dark Fantasy, che era abbastanza corto anche e che era, diciamo così, è una prova di vedere e di imparare alcune cose nel mercato editoriale americano, USA. Ho parlato di mailing list, di come iniziare a costruirne una e per quale motivo è importante avere avere un certo numero di following prima del lancio del vostro libro. Ho parlato di come testare, dell'importanza del testare un libro nel mercato americano prima di pubblicarlo e di metterlo di fronte a milioni di persone. Ho parlato della copertina e della sua importanza. In questo episodio mi sono fatto alcuni appunti e volevo discutere più in particolare su che cosa sto facendo io per prepararmi alla pubblicazione di questo libro. Ora, ci sono alcune date che io ho selezionato e ho deciso di prendere per quanto riguarda la pubblicazione di questo libro. La data di pubblicazione ufficiale è il 20 di agosto però scopriremo insieme oggi che questa non è realmente la data più importante è soltanto una di una serie di date che vedranno che saranno accompagnate da altri date importanti che verranno prima e dopo. Questo proprio perché sto cercando di creare una scaletta che utilizzerò per rilasciare diversi tipi di promozioni che dovrebbero aumentare la visibilità del mio libro. Una cosa importante che volevo sottolineare è proprio questo tema del come lanciare un libro con zero followers e senza una piattaforma. Se voi mi seguite da un po' di tempo sapete che sono un grande sostenitore di iniziare con una piattaforma forte per piattaforma intendo un luogo nel web che voi controllate e gestite e osso anche avere dei followers per fare in modo appunto di dare più possibilità al vostro libro di essere visualizzato o comprato su Amazon. Quindi ovviamente un autore che parte con un certo tipo di following ha più possibilità che il suo libro salga la classifica che abbia più possibilità e ovviamente tutte le cose belle che seguono da queste cose. Però molte persone iniziano da zero, ovviamente. Non hanno una piattaforma se non sono persone famose, non sono delle celebrità, non hanno una piattaforma che qualcun altro ha creato per loro. Se sono quindi degli autori indipendenti, come si fa a partire? E io sto sperimentando questa fase, diciamo così, in questo mio esperimento nel mercato americano, perché io effettivamente parto con nessuna piattaforma ben strutturata in anglosassolandia, con nessun followers. Questo è davvero interessante per quanto riguarda una persona che vuole iniziare in questo mercato, perché io parto proprio da zero. Quindi ho fatto alcune decisioni, ho preso alcune decisioni per quanto riguarda l'uscita di questo libro, e una delle cose che le persone a cui ho chiesto di darmi delle direttive, delle istruzioni, persone che hanno avuto successo nel mercato americano, loro mi hanno invitato a farmi una domanda molto importante. È una domanda che tutte le persone che iniziano a pubblicare devono farsi per fare in modo di capire esattamente qual è l'obiettivo del progetto o del vostro libro. E la domanda che mi hanno detto di farmi è questa. Michele, tu vuoi visibilità per i tuoi libri oppure vuoi vendere più copie possibili? Perché una strategia che prendi è diversa da quell'altra. Quindi questa è una scelta di fondo che tu devi fare molto prima della pubblicazione, perché poi tutte le strategie promozionali, tutte le decisioni che prenderai, deriveranno da questa decisione. Quindi visibilità o copie vendute. Che cosa intendo per visibilità o copie vendute? Copie vendute è abbastanza autoesplicatorio, fare più soldi possibili, mettere nell'algoritmo di Amazon più possibilità di far schizzare il vostro libro nella classifica, metterlo davanti a più popille possibili. E questa ovviamente è una scelta che molti autori potrebbero trovare sensata. E ha senso ovviamente, perché è una persona che vuole vendere un libro, vuole farci anche dei soldi, ovviamente. La seconda scelta, quella della visibilità, è meno chiara magari all'inizio. C'è Blanche che ha fatto un commento, una bella diretta, io parto da zero anche sul mercato italiano, quindi mi serve molto. Risponderò poi alle domande che mi starei facendo lì alla fine di questo episodio. Visibilità è una cosa che, secondo me, un autore sceglie se ha in mente un progetto a lungo termine. Quindi, se un autore sa che farà, pubblicherà dei libri per anni, tre, quattro, cinque anni, questa parte, secondo me, quella della visibilità, la strategia a lungo termine, che ha più senso. Una persona che magari ha una strategia che vuole vedere dei risultati immediati di vendita, allora, quello del sales, quello del vendere più come possibile nell'intervallo o meno di tempo, ha senso. Però, io mi sono trovato a fare questa scelta. La mia scelta è che Staró è mia scelta, appunto, stare nel mercato americano, produrre più libri possibili in questa lingua, quindi io sto giocando nel lungo periodo. Quindi, domanda iniziale che tutte le persone devono farsi, persone che partono da zero, è volete visibilità, quindi state facendo il gioco a lungo periodo, medio-lungo periodo, o volete risultati immediati? Quindi, quello del vendere più copie possibili. E questo non c'è scelta sbagliata o giusta. È semplicemente una cosa che dipende dai vostri obiettivi, dalle vostre tempistiche, dal vostro prodotto, dalla vostra strategia editoriale, dipende da persona a persona. Quindi, visto che vi sto parlando di questo mio progetto di pubblicazione, io vi dico pubblicamente che ho fatto la scelta della visibilità. Ora, che cosa porta la risposta a questa domanda, quella della visibilità? comporta una serie di passi che sono molto diversi da quelli della vendita immediata. Quindi, io quello che voglio fare è accrescere un certo tipo di readership, quindi followers, avere più subscribers, iscritti alla mia mailing list, però non semplicemente che siano iscritti, ma che siano anche coinvolti in quello che pubblico, per esempio. E ancora una volta, questa è una cosa che richiede più tempo rispetto alla strategia del vendere immediatamente. Ora, mi sono fatto alcuni appunti qui su quello che voglio parlare, e quello delle copie vendute o della visibilità è uno dei punti che volevo sottolineare. Una domanda che dovreste farvi a tutti quanti se state iniziando, ma anche se avete alcuni libri pubblicati, potreste magari avere 3-4 libri, magari una serie, e decidere, questo tipo di libro, voglio adottare una strategia diversa, sempre e comunque fatevi questa domanda qui, della visibilità o del riscontro immediato di copie vendute. Qual è, nella precisione, il mio obiettivo per questa pubblicazione, per questo mio primo libro in inglese che pubblico, direttamente questa lingua, nel mercato americano? Questa è un'altra cosa che mi hanno, che ho visto nelle risorse che sto assorbendo in questo periodo, è la domanda che devo farmi immediatamente successiva a quella del cosa vuoi, visibilità o copie vendute. E quello che bisogna capire è qual è il nostro obiettivo preciso nel breve periodo. E per breve periodo io intendo l'obiettivo che abbiamo noi prima che il nostro libro venga pubblicato, prima che le persone sappiano effettivamente che esista. Ora, questo mi porta a discutere di un'altra componente importante, che è quella del come pubblicare un libro. Ci sono un'infinità di modi diversi per pubblicare un libro, a seconda che si segua la seleggia della visibilità o delle copie vendute. Ora, io so che moltissime persone, quando pubblicano un libro, semplicemente, se per esempio pubblicano un libro, non lo so, al 21 di agosto, tutte quante le loro forze, tutti i loro social media, tutte le persone che conoscono, vengono indirizzate a quel punto, a quel giorno, vendono copie. Soltanto quelle 24 ore. Quindi incalanano la maggior parte delle loro energie in quel frangente temporale e basta. Ci sono altre strategie che possono essere utilizzate. Una delle strategie di cui vi parlerò oggi, per pubblicare un libro è quella della soft release e quella della wide release. Quindi, per fare una traduzione molto maccheronica italiana, e non so neanche se sia molto congeniale, una soft release, praticamente, sarebbe un tipo di pubblicazione che è nascosta. Il libro è pubblicato magari su Amazon, ma nessuno, a parte alcune persone selezionate di cui parlerò, lo sanno. La wide release è un tipo di pubblicazione che segue la prima pubblicazione soft in cui tutto il mondo sa della pubblicazione del vostro libro. Ora, perché seguire questa strategia del soft o wide release? Ancora una volta, dipende dal vostro obiettivo e dalla vostra strategia. Soft e wide release è una strategia che si fa se un autore vuole accumulare riconoscimenti riconoscimenti e recensioni prima che il libro sia davanti al grande pubblico. Quindi, diciamo che io voglio pubblicare il mio dark fantasy ufficialmente, quindi che tutti lo sanno, il 20 di agosto. Il mio piano adesso è questo. Pubblicare in silenzio, quindi con una soft release, il pubblico il 13... scusate, il libro il 13 di agosto, quindi una settimana prima la wide release, e che cosa fare? Quando il libro sarà disponibile, il 13 di agosto su Amazon, chiederò a delle persone che sto preparando, insomma, dei gruppi, a delle persone di recensire questo libro, quindi leggere e recensire questo libro prima della pubblicazione wide, che sarà del 20 di agosto. Questo tipo di strategia è utilizzabile e anche consigliata se le persone vogliono fare in modo che quel prodotto non vada su Amazon con zero recensioni quando tutti possano vederlo e comprarlo. Perché un prodotto con zero recensioni ha ovviamente meno possibilità di essere comprato, perché ha meno credibilità, di un prodotto che magari 5, 10, 25, 30... Ora, il numero di recensioni che voi avete dipende molto dalla vostra author platform, quindi dalla plataforma di cui avete a disposizione. Se siete un autore che ha già, che ne so, 1.500 persone sulla sua mailing list, si può aspettare un certo tipo di recensioni, in più rispetto a autori come noi, in questo caso il mio, in cui ho una mailing list inesistente nel mercato americano. Ci sono delle strategie in cui un autore che ha zero followers e nessuna piattaforma può comunque avere delle recensioni, e ne parlerò in questo episodio. Sono degli strumenti e delle risorse che io sto utilizzando per costruire una specie di mailing list da zero, però bisogna che voi sappiate che non dovete avere già mille iscritti nella vostra mailing list per fare in modo di suscitare, di avere delle recensioni nel periodo tra la soft opening e la wide opening, o soft release and wide release. Quindi, cosa molto importante. Questo periodo può essere di una settimana, di due settimane, lo decidete voi. Io sto facendo semplicemente un esempio. Quindi, ricordate, c'è modo e modo per pubblicare un libro, quello della soft e della wide è un tipo di modo, il modo della bomba, che è quello di mettere tutte le risorse e far fare una spike di vendite a quel libro e un altro. Ce ne sono diversi, come ho detto, non ce n'è uno sbagliato e uno giusto, dipende molto da voi. Ora, ciò detto, come vi avevo accennato, il mio obiettivo è questo, avere almeno dieci recensioni prima del momento in cui il libro sarà pubblicato al pubblico generale, quindi il 20 di agosto. Ora, questo è l'obiettivo che voglio avere per quanto riguarda la pubblicazione di questo libro, quindi dieci recensioni, e il mio obiettivo secondario, questo era l'obiettivo primario, è quello di costruire, iniziare a costruire la mia mailing list in anglosassolandia. Quindi, io ho già ovviamente una mailing list in italiano, ma non ne ho nessuna, praticamente, nel mercato americano, quindi se volessi domani pubblicare un secondo o un terzo libro, dovrei ricominciare questo processo qui dell'andare a trovare le risorsa A, la risorsa B, la risorsa C, per fare in modo che le persone leggano il mio libro prima della wide release, invece, se avessi una mia mailing list, potrei magari utilizzare sempre questi strumenti, ma facendo più affidamento ai miei già iscritti, a persone che si fidano già di me, che mi conoscono, che sanno che tipo di qualità dei prodotti e del tipo di genere di prodotti che io deciderò di pubblicare. Quindi, avere ovviamente una mailing list già installata è come avere, ha la stessa importanza di avere una piattaforma. La mailing list è qualcosa che voi controllate e gestite, e ci sono delle persone che hanno più probabilità di seguirvi, di essere interessate al vostro prodotto, di una persona random a cui magari date un giveaway e offrite un libro gratis. Quindi, questi sono i miei obiettivi. di avere delle recensioni immediatamente, prima della wide release, e iniziare a costruirmi una subscribers fanbase. Almeno 100 persone. Quindi, è un obiettivo molto ristretto, come potete vedere. Quindi, 10 recensioni e 100 subscribers prima del lancio ufficiale di questo libro. Però, sono molto specifici. Quindi, io posso utilizzare delle strategie volte a andare, in qualche modo, a utilizzare le mie risorse per avere quelle 10 recensioni e quei 10 subscribers. Quindi, non è che vado a destra, a sinistra. Io ho quei due obiettivi, so che cosa devo fare, devo soltanto cercare delle risorse che mi permettano di raggiungere questi due goal, questi due obiettivi. Quindi, ricapitolando, importantissimo per un autore che non ha followers, non ha piattaforma, che vuole pubblicare un nuovo libro, di capire qual è il suo interesse. Quello della visibilità, quindi di avere più visibilità per i propri libri, la propria persona, oppure quello di vendere il più copy possibile immediatamente. Un altro discorso che ho fatto nel primo episodio di questa live è quello del cercare di fare in modo che Amazon promuovi il vostro prodotto, quindi il vostro libro, a persone che hanno una possibilità, una probabilità maggiore di leggerlo questo prodotto e di consigliarlo ad altre persone. Perché, come dissi all'inizio, se voi state pubblicando un urban fantasy e utilizzate tutte le risorse possibili immaginabili per generare più vendite possibili, quindi utilizzando la tecnica del vendere tantissime copie più velocemente possibile, potrebbe anche darsi che in un certo tipo di mailing list che voi avete utilizzato ci sono persone che leggono romance, fantascienza, dark fantasy, quindi non persone specificatamente interessate all'urban fantasy. E quella potrebbe essere una cosa che scompensa l'algoritmo di Amazon e non fa proporre il vostro libro all'audience giusto. E questo, nel lungo periodo, può danneggiare il vostro libro e le vendite del vostro libro. Mentre, se voi fate una scelta della visibilità, sarete più strategici del tipo di risorse che scegliete, quindi magari andrete a trovare, se pubblicate urban fantasy, dei reddit che parlano di questo argomento, dei gruppi Goodreads che sono dei fan di questo argomento, andrete a trovare delle mailing list specificatamente incentrate su lettori di urban fantasy, quindi, come accennavo prima, stare giocando nel lungo periodo. Questo per quanto riguarda visibilità e copie vendute. Poi, come vi avevo detto, per rendere il più trasparente possibile questo processo di pubblicazione che sto condividendo con voi, io ho deciso di avere questi due obiettivi. L'obiettivo primario è di avere dieci recensioni prima della wide release, del momento in cui le persone sapranno che il mio libro è live, e l'altro obiettivo è quello di avere almeno 100 subscribers nella mia mailing list di lettori in inglese. Adesso questa mailing list è inesistente, non esiste. Sono obiettivi ancora specifici, piccoli, ma, secondo me, abbastanza facilmente raggiungibili, specialmente se si ha una strategia. Quindi, avere delle date, una timeline specifica con giorni, il mio giorno di software release sarà il 13 di agosto, wide release sarà il 20 di agosto, è tutto scritto in nero su bianco, e sto anche utilizzando, come parlavo prima, delle risorse che credo vi possano essere utili, specialmente se deciderete magari in futuro di utilizzare il vostro tempo per produrre un libro in inglese. Ora, molte delle risorse di cui parlerò nei prossimi dieci minuti, cinque dieci minuti, avranno a che fare con il mercato americano, ma molte altre risorse possono essere utilizzate anche da persone che scrivono esclusivamente in italiano e stanno cercando di raggiungere il pubblico italico. Una delle classi di risorse che sto cercando di padroneggiare, di capire come funziona, è quello della costruzione di mailing list attraverso la consegna di una copia gratuita del mio libro prima che il libro venga pubblicato. Queste copie speciali del mio libro vengono chiamate ArchCopy, sono delle advanced copy per readers e sono delle copie esclusive che io mando a magari recensori o a persone che sono interessate a leggere quel genere prima della pubblicazione del mio libro per fare in modo di avere l'indirizzo email di queste persone e una volta che hanno letto questo libro chiedere gentilmente ai lettori se possono lasciare una recensione del mio libro su Amazon Goodreads qualsiasi sia la vostra vena insomma si spera Amazon perché è il rivenditore online più grande che ci sia quindi io sto spendendo molto tempo per cercare di capire e padroneggiare l'uso di tre o quattro risorse che mi permettano di aumentare di costruire la mia mailing list da zero e poi per chiedere a queste persone che sono entrate nel mio team nel mio gruppo di lasciare delle recensioni ora quali sono queste risorse una tra tutti tra tutte che voglio consigliarvi si chiama Book Funnel qualcuno di voi può aver sentito di questa risorsa Book proprio come B-O-O-K Funnel ed è praticamente una piattaforma che permette di dare il vostro libro alle persone che desiderate in cambio dell'indirizzo email e questa cosa può essere magari per un periodo limitato e la cosa bella di Book Funnel è che dà la possibilità di ridiriggere tutto il traffico in quella pagina e il sito si occuperà di dare la copia del vostro libro in formati completamente diversi a delle persone quindi questo vi fa risparmiare del tempo come degli autori perché vi permette di fare questo ragionamento io do un file a Book Funnel e questa piattaforma si preoccupa di distribuirlo nel formato che il lettore preferisce quindi PDF Mobi e Pub senza che io debba fare niente quindi tutto quello che devo fare è ovviamente pagare per il servizio e ci sono dei piani diversi a cui potete fare scelta e dare la possibilità di creare una pagina sul loro sito e indirizzare le persone interessate a cui voglio voglio che queste persone leggano il mio libro su Book Funnel e loro semplicemente cliccano un bottone e decidono quale formato scaricare del mio libro e questo mi risparmia tantissimo tempo dal punto di vista di manutenzione perché non sarò io la persona a dare manualmente nel formato richiesto al lettore il mio libro quindi Book Funnel è utile per risparmiare tempo e per ridirgere in una certa pagina ai lettori interessati potenzialmente a leggere in esclusiva il mio libro e poi recensirlo in un certo periodo finestra su Amazon o Goodreads o altri posti che voi decidete un'altra risorsa che ho scoperto da un po' di tempo è Book Sprout che praticamente è una cosa che fa similarmente a Book Fun in cui date la possibilità a delle persone di scaricare il vostro libro e anche questo c'è un piano se non sbaglio gratis è un paio di piani a pagamento e fa una cosa simile a quella che fa Book Funnel anche se la piattaforma è completamente diversa e potrebbe da punto di vista grafico io preferisco Book Funnel ma è uno degli strumenti che possono essere utilizzati insieme a Book Funnel per fare in modo di avere più lettori del vostro libro prima della pubblicazione e quindi per fare in modo che i potenziali lettori interessati a recensire il vostro libro aumenti e ci sono anche altri servizi che sto esplorando e che altri autori indipendenti mi hanno fatto mi hanno fatto presente uno di questi per esempio è Book Swamps che è un sito che permette di dare un certo numero di copie del vostro libro ad una lista di lettori o di inserire il vostro libro di un certo genere magari diciamo che il vostro libro è un fantasy Book Swamp fa in modo che il vostro libro venga inserito in una lista di altri libri di altri autori e i lettori possono decidere tranquillamente se il vostro libro in questa lista interessi loro e se scaricarlo e magari recensire e anche questo questo ultimo strumento è un modo per accrescere la vostra mailing list quindi tutta la strategia questa qui è volta accrescere la mailing list e favorire le recensioni nel mio libro che come vi ho detto all'inizio sono i due obiettivi che io sto cercando di raggiungere quindi quelle 10 recensioni e quei 100 iscritti prima della pubblicazione del libro quindi questo per quanto riguarda la strategia che sto cercando di adottare e spero che abbia risposto alle domande di come lanciare un libro con zero followers e senza piattaforma quindi visibilità la domanda che bisogna farsi oppure copie vendute nel minor tempo possibile e diversi tipi di strategia chiamano diversi tipi di risorse utilizzate insomma ci sono molti altri modi per rendere le persone consapevoli del vostro libro molte di queste altre venue possono essere per esempio social media o gruppi facebook goodreads forum tutte cose che sono assolutamente giustificate da utilizzare però secondo me costruire questa mailing list richiede dei servizi come per esempio bookfun che risparmiano un bel po' di tempo e automatizzano quel processo che vi permette a voi di creare una mailing list in modo automatico senza che voi dobbiate a fare assolutamente niente se non iscrivervi a quel servizio e praticamente dare il vostro file a quel tipo di piattaforma come bookfun e fare in modo che le persone interessate scarichino il vostro libro e una volta che sono nella vostra mailing list potete iniziare una conversazione tra lettore e autore e si spera che questa conversazione poi porti a un rapporto di fiducia che generi delle recensioni per il vostro libro sempre prima del famoso wide release quindi del momento in cui il vostro libro verrà pubblicato nel mondo intero quindi queste sono alcune delle cose che sto facendo per il mio libro dark fantasy la cui pubblicazione ufficiale sarà quella del 20 di agosto sono molto molto interessato a vedere come va a finire come vi ho accennato anche nel primo episodio condividerò con voi numeri e statistiche di questo lancio e il mio obiettivo primario oltre a quello delle recensioni e dei subscribers degli iscritti è quello di imparare perché questo è il mio primo libro e sto ancora cercando di capire come funzionano certe cose in questo mercato americano che cosa funziona o non funziona questo è il mio primissimo libro in questo enorme mercato differente dall'italiano io so di non sapere e spero che questo esperimento che è anche pubblico possa diventare anche una specie di diario personale che magari due o tre anni a questa parte vada a rivedere e a controllare che cosa stavo facendo magari come ho cambiato la mia strategia quindi sono sicuro potrà essere anche utile a me e a persone che magari qualche in qualche momento magari un anno o due anni di distanza vorranno avere delle risposte a come diavolo si lancia un libro in un mercato così grande come quello anglosassone e che i miei esperimenti insomma riescano a fare un po' di luce su alcune cose come promozione editoriale e testing a provare cose nuove che possano aiutare altre persone poi nel loro lancio in anglosassolandia quindi questo è tutto per quanto riguarda questa seconda live e io vi ricordo che ogni lunedì alle 8 di sera mi troverete qui per un aggiornamento su come sta andando la mia pubblicazione e vi ricordo anche che se siete interessati a farmi delle domande come le ha fatte Blanche spero che si pronunci in questo modo potete semplicemente sintonizzarvi qui su youtube e farmi le vostre domande ora passiamo a quello che mi ha chiesto Blanche allora lei mi ha chiesto bella diretta parto da zero anche sul mercato italiano quindi mi serve molto e comunque se il romanzo che sto risistemando sarà accettabile mi piacerebbe trovare la possibilità di tradurlo in modo professionale giusto e vendere sul mercato USA dato che è ambientato lì questa è un'ottima cosa che puoi assolutamente fare ci sono modi diversi per farli e io ho fatto e ho creato anche un paio di video a proposito ti invito e vi invito altre persone interessate a come tradurre un libro di andare a vedere la mia rubrica fare self come tradurre un libro in altre lingue e come tradurre un libro in inglese questo potrebbe esserti utile carissima e dice alla domanda risponderei vorrei vendere copie giustamente Blanche e anche perché non scrivo saghe non so quanti libri scriverò magari due magari quattro non lo so davvero e non riesco a stabilirlo a priori ottimo punto questa se hai la tua strategia e non sai esattamente magari qual è il tuo piano a lungo termine quindi non sai se fra 5-6 anni starai qui a fare questa cosa a vendere altri libri allora sicuramente è una scelta legittimissima cercare di vendere più copie possibili e vedere come va a imparare e se vedi che ti sta portando un ritorno economico allora continuare a farlo poi ovviamente i risultati parlano delle persone se vedi che il tuo libro sta vendendo molte copie ovviamente sarai più motivata magari a scriverne altri dipende tutto da tantissimi fattori dipende anche tanto dal fatto se ti piace pubblicare indipendentemente perché ci sono talmente tante cose in questo processo che vanno ricordate quindi se questo è il tuo obiettivo assolutamente ti consiglierei di cercare di mandare più traffico possibile in uno o due giorni alla pagina del tuo prodotto promuovere ovviamente in modi diversi credo comunque che creare una mailing list prima del lancio del tuo libro possa comunque beneficiare anche persone interessate del tipo secondo di strategia cioè quello di vendere più copie possibili quindi indirizzare chiunque qualsiasi persona nel minor tempo possibile al tuo prodotto quel giorno o due cercare di far fare al tuo libro una spike e se riesci con questa spike a far diventare il tuo libro l'hai posizionato in una categoria giusta far diventare un best seller poi hai quella targhetta colorata che è una cosa di cui puoi freggiarti e dire io sono stato un'utilizzo best seller che è comunque un materiale che puoi utilizzare in futuro lo puoi utilizzare se stai magari in interviste puoi utilizzarlo come currency come qualcosa che ti vuoi mettere sul petto e puoi dire io sono arrivato a quel punto quindi assolutamente può essere una strategia validissima mentre appunto le persone che magari hanno un piano a lungo termine stanno giocando in lungo periodo quello che vogliono far fare al loro libro è magari vendere una copia nel primo giorno due poi cinque sette è una cosa molto ma molto lenta e graduale che poi però è il tipo di cosa che Amazon preferisce un aumento costante non una spike che poi finisce e muore del tuo libro ti lascio con un'ultima domanda poi recupererò la live più tardi per gli usa ovviamente immagino che pubblicherai solo su Amazon Italia è conveniente farlo? questa è una domanda molto interessante io carissima ho deciso di farlo soltanto in Amazon KDP Select e ho deciso di farlo perché già è un esperimento per me difficile e non so abbastanza cose nel mercato americano e voglio concentrare le mie vendite e la visibilità del mio libro in una piattaforma quella di Amazon quindi gettare tutto quello che ho su questa piattaforma imparare anche a utilizzare Amazon Ads quindi per questo primo libro la mia risposta è sì mi concentrerò su Amazon KDP Select probabilmente farò uso anche delle promozioni che Amazon dà ai suoi autori in Italia è conveniente farlo? ancora una volta dipende da quello che tu vuoi fare con i tuoi libri io so di per esempio altri autori che conosco e che rispetto per esempio Rita Carla Francesca Monticelli lei decide di andare wide a lei non le piace affatto dare soltanto i diritti dare i diritti delle sue serie o dei suoi libri soltanto a Amazon KDP e lei sta vedendo bene anche su altri retail per esempio Kobo ci sono Google Play Apple questa è una scelta che va assolutamente a toccare il punto personale di ogni autore io ho fatto la scelta di Amazon Select per questa mia release perché è la prima e perché mi voglio concentrare maggiormente non tanto sul pubblicare su questa piattaforma o quell'altra guardare come vanno le cose voglio avere il massimo possibile di quello che sto cercando di fare concentrarmi semplicemente sulla piattaforma Amazon poi magari in futuro deciderò di utilizzare anche altre online store ma per adesso questo sarà il mio materiale in cui mi concentrerò quindi imparare meglio possibile al meglio possibile come pubblicare con successo un romanzo utilizzando KDP Select quindi questo per quanto riguarda l'episodio live di oggi un'altra volta vi ricordo che il prossimo la prossima live andrà in onda il prossimo lunedì alle 8 di sera se volete farmi altre domande io sarò qui a rispondervi alla fine insomma del del mio esperimento di cui continuerò a parlarvi e su queste note io vi lascio e se non avete però fatto una cosa se volete avere delle informazioni più pertinenti anche a self-publishing platform building cose di cui parlo su questo canale potete iscrivervi alla mia main list il primissimo link dovrebbe essere nella descrizione di questo video e se vi iscrivete adesso potrete anche avere l'opportunità di scaricare a gratis il kit dell'autore imprenditore che è uno strumento un file che ho dato a disposizione ad autori per stabilire quali sono i loro punti di forza e punti di debolezza come autori indipendenti e adesso veramente su queste note io vi lascio al prossimo lunedì grazie per avermi seguito ciao e alla prossima grazie a tutti